E' uscito finalmente il bando presente nel sito del Comune di Belluno e nella sua di Vicenza, questo bando importante per l'acquisizione e la gestione degli impianti in risalita del Nevegal. Questo è un momento importante a cui abbiamo lavorato su negli ultimi 4-5 mesi, il rischio era di non riuscire a pubblicare questo importante step diciamo per il nostro Colle Bellunese, in realtà siamo riusciti. Adesso il compito è delle imprese, degli operatori economici che vogliono presentare l'offerta, l'offerta scadrà il 6 di marzo, entro mezzogiorno del 6 di marzo, il 7 ci sarà la giudicazione. Credo abbiamo rispettato una promessa fatta in campagna elettorale che era quella di arrivare alla chiusura di un bando, molti non ci speravano, in realtà siamo riusciti anche grazie ai nostri consulenti, ai nostri uffici che ringrazio davvero di cuore per aver messo assieme un puzzle che era di difficile esecuzione, un importo importante di gestione per 12 anni più uno di questi nostri impianti del Nevegal, molto amati da tutti. Vedremo anche e abbiamo chiesto all'interno del bando i possibili investimenti che devono arrivare nel corso dei 12 anni con una proiezione dello stato attuale migliorativa rispetto all'innevamento, all'impiantistica, ai gatti delle nevi, al mantenimento degli operai, insomma tutta una serie di cose e considerazioni che sono elementi importanti di un bando altrettanto importante. Nell'arco alpino non c'è nessuno che ha fatto un bando come il nostro per acquisizione e gestione contemporanea della questione.